La festa della donna è un giorno di celebrazione per le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne ed è una festività internazionale celebrata in diversi paesi del mondo occidentale. L'usanza di regalare mimose in occasione della festa non è invece diffusa ovunque. L'8 marzo era originariamente una giornata di lotta, specialmente nell'ambito delle associazioni femministe, il simbolo delle vessazioni che la donna ha dovuto subire nel corso dei secoli. Fra gli altri eventi storici commemora l'incendio della fabbrica vicino a New York, dove nei primi del Novecento 148 persone, la maggior parte donne, persero le loro vite, ma nel tempo ha preso connotazioni commerciali e consumistiche. Cosa farai per la festa delle donne? Credo che andrò in qualche locale comunque a ballare con le amiche e così. Senti, ma qualcuno te la regalerà una mimosa? Su questo seri dubbi, almeno che non sia mio padre. Con chi passerà la festa delle donne? Mio marito, perché come le ho detto prima, insomma, per la donna dovrebbe essere festa tutti i giorni, non solo l'8 marzo, e quindi io la festeggio con lui. La mimosa però la riceve? La mimosa penso che mio figlio me la porterà, altrimenti non è un problema. Festeggia la festa della donna? No, non in particolar modo. Io sono una convinta assertrice del fatto che le donne sono come gli uomini, siamo tutti esseri umani, andiamo avanti in basso alle nostre capacità, alle nostre opportunità. Siamo stati penalizzate come donne, certo, storicamente, però adesso non carichiamo di retorica ulteriore quello che, insomma, in effetti non mi sembra abbia più luogo. Di solito mi regalano i fiori, però finisce lì, preferisco stare... Non mi piace uscire insieme tutte donne, preferisco stare in compagnia. Grazie a tutti.